Giorno, parlo! Giorno, parlo! Sì, è la mia! Ora è mia! Mia! Ma va a farlo, cazzo! E la fare è la palla, casa mia! E la fare è la palla, casa mia! E non mi vada niente! E, 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 e! Non puoi fare altra gente! E, 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 e! E la fare è la palla, casa mia! Mia! E Raffaella è mia! Mia, mia! E su sorridiamento tus, tus, tus... Ascolta il reperto odio e tanta tono per me. Èato al momento più importante più attesso aoscendere il vincitore di Raffaella è mia. E con un quarto che porterà fosse una casa di un'altra scoperta fatta e della caratterizzazione Giorno è un'altraologia con la cloverta! ma no 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 via sotto cano piano io penso guidi tipi la chi il truncino l'attacco ma di quelle che mi fanno ridere la macchina ai t? chiedi qu'è più chiedi chiedi le le c ma non si percorrerà vai, vai, vai e la paella e la paella la casa mia si scende la super terra e la paella 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 l'ultimo amini arriva, arriva, arriva passano il telefono questo cane è un po' paradossalmente sarà sua, sua, sua Raffaella canta casa mia, Raffaella canta casa mia, e non invoca niente, e non c'è sempre, e Raffaella canta casa mia, e Raffaella è mia, 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 e tu colpidina, Raffaella canta casa mia, e la raffaella canta casa mia, e Raffaella canta casa mia, 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 di-